Abbiamo chiesto ai clienti Money Farm perché risparmiano e quali obiettivi si pongono quando decidono di investire i loro risparmi, sentite cosa ci hanno risposto. Allora risparmio perché comunque ho una visione lunga della vita e quindi sto creando una famiglia, ho avuto la nascita di una bambina, quindi penso anche ai suoi studi futuri, a una mia pensione anche che in Italia sarà comunque da parte dello Stato molto difficile o comunque esigua e quindi poi alla lunga il mio investimento comunque è abbastanza aggressivo, comunque Money Farm ho scelto la linea quella più aggressiva perché comunque ho un'età relativamente giovane che mi permette un rischio iniziale che dopo magari andrà a scemare. I motivi del risparmio sono essenzialmente legati alle esigenze della famiglia che possono essere quelle così collegate all'istruzione del figlio oppure a un discorso di pensione futura e quindi diciamo ai bisogni generali della famiglia. I risparmi li metto via per poter avere in futuro una rendita, spero il più presto possibile e conoscendo anche gli eventuali rischi che comporta l'investito.